Buongiorno e benvenuti a tutti. Con una legittima soddisfazione, anche con un pizzico di orgoglio, saluto l'avvio di questa seconda edizione qui a Rimini degli Stati Generali della Green Economy. Permettetemi soltanto, brevissimamente, di richiamare un concetto, una considerazione. Mi piace sottolineare come questo evento, così fortemente partecipato, nelle caratteristiche davvero inedite per quanto riguarda i tassi di partecipazione, così partecipato e autorevole, anche se siamo appena alla seconda edizione, si ponga in diretto contatto con le manifestazioni nostre, fieristiche, che in questi quattro giorni vengono ospitate nei padiglioni di Rimini Fiera. Le due realtà si intrecciano, camminano insieme lungo una linea e sono così in grado di offrire una vision complessiva dell'intero, completa, organica, dell'intero settore. Nelle due anime, quella di carattere politica e culturale e quella ovviamente dell'industria, dell'intero settore. L'una allo specchio dell'altra, l'una non può prescindere dall'altra e arrivano a costituire un unicum che esalta nella sua completezza l'intero settore. E' questa la concreta opportunità che tenteremo di offrire, che verrà offerta in queste quattro giornate qui a Rimini Fiera. il contatto immediato fra i protagonisti degli Stati Generali della Green Economy e il mondo dell'impresa. Con una rassegna di tecnologia eco-innovativa, con esperienze, studi e progetti in anteprima che alimenteranno l'aspirazione comune di ciascuno di noi, quell'aspirazione che tutti condividiamo, un Green New Deal per l'intero nostro Paese. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Grazie a tutti voi e buon lavoro.